Ciao a tutti, oggi vi vorrei parlare delle mie nuove esche per spinning e rockfishing. Iniziamo con questa. Questa è una piccola esca in silicone di colore bianco, casa Nomura, di 4 cm. Allora, questa è indicata per scorfani, sciarrani e ghiozzi. L'ho scelta del colore bianco perché, da quello che ho notato, è il colore più addescante per questi tipi di pesci. Passiamo a quest'altro tipo di esca. Allora, questa è sempre casa Nomura. Questa esca si chiama Koi. Allora, è di color giallo. Il colore non mi fa impazzire neanche la forma perché, secondo me, non raffigura né un pesce né un verme. Quindi non è una delle mie preferite. Allora, questa è di 5 cm con 0,97 grammi. Passiamo a quest'altra tipologia di esche. Allora, questo è un piccolo shad con degli annellini, color black silver, nero e argento, con dei piccoli brillantini. Allora, questo è di 4 cm. Nel pacchetto ce ne sono 14, quindi per il suo prezzo sono abbastanza convenienti. Allora, questi sono uno dei miei preferiti perché sono molto adatti per il rockfishing. Allora, da abbinare a questo, io di solito uso queste testine che ho di due misure. Questa è di 1,5 grammi e quest'altra che è di 2,5 grammi. Adesso passiamo ad un'altra marca che non avevo ancora visto. La marca Heracles. Queste sono le esche Heracles che ho io. Sono uguali, solo che sono di diverso colore. Sono dei piccoli pesci con la coda falce di 5 cm. Questo è color orange, questo è white. Passiamo di nuovo alle esche Rapture. Questa è un'esca un po' più pesante perché è un'esca di 7,5 cm. colori molto natural, come la sua forma. Questa è un po' meno indicata per il rockfishing, però molto utile per lo spinning. Questa è un po' più pesante. Questa è un po' meno intenso, abbiamo perspire indqui speedulare. Questa è un po' meno natural. Questa è un po' meno natural.